Non tutti hanno gradito il nuovo cancello fatto sistemare dall'amministrazione comunale di Teramo che di notte chiuderà una porzione dell'area archeologica di Piazza Sant'Anna. Negli ultimi tempi questa zona, particolarmente nascosta, era diventata centro di spaccio cittadino e di vandalismi senza precedenti. E se da una parte il cancello è stato criticato perché paragonato concettualmente ad un muro che limita e vieta, i residenti al contrario plaudono all'iniziativa. Ma i vandali non si danno per vinti, anzi si vendicano e rompono a sassate due enormi vetrate che delimitano la domus romana. Come pensate di poter arginare questa ondata di vandalismo soprattutto in questa zona, in questa Piazza Sant'Anna? Sicuramente delimitare questo spazio in oro notturno era un percorso per cercare di sfadere, di venire qui in oro notturno e fare di tutto. Onestamente è un problema difficile da affrontare perché ha radici profonde nelle famiglie che oggi sono un po' disgregate, c'è poca attenzione verso i ragazzi, soprattutto sono ragazzi minorenni, quindi ci dovrebbe essere una maggiore attenzione delle famiglie però è un problema reale, difficile veramente da affrontare perché dovrebbe essere tutta la società, le amministrazioni, le famiglie insieme, dovrebbero seguire un percorso per cercare di rieducare un pochettino i comportamenti civili di questi ragazzi. Devo dire che i ragazzi che oggi stanno vivendo un momento difficilissimo, forse sono quelli che pagano il petaggio maggiore per questa pandemia. L'enorme e impattante struttura di ferro e vetro che copre la Domus Romana di Piazza Sant'Anna, fatta oggetto di continui vandalismi, non è più ritenuta idonea dall'attuale amministrazione comunale, che intende rimuoverla, raddoppiando così lo spazio calpestabile della piazza. Questa amministrazione sicuramente porterà avanti un'idea progettuale lentamente di rimozione di questa struttura che è molto impattante per quanto riguarda l'armonia di questa piazza così gradevole, così segreta. Se si vede dall'alto questo contenitore è grande due volte la piazza, quindi sicuramente va ripensata. L'opportunità del Recovery Fund e della nuova gestione della sovrintendenza ci danno la speranza che qualcosa potrà essere modificato, spero a breve.